La Game Social ha rilasciato le nuove FAQ per Ijo Simmar, quarta edizione, Scaventide, il 23 ottobre 2024. Qui dovete tenere conto che io porterò soltanto quello che è l'aggiornamento per quanto riguarda le regole, quindi se siete interessati a vedere quelle che sono gli aggiornamenti precedenti, invito a vedere la descrizione, troverete il link a riguardo. E inoltre voglio ricordare che tecnicamente questo è ancora più importante, perché va a includere anche quello che è stata la modifica per i punteggi e le FAQ per quanto riguarda i Batatom degli Stormcast e Tanas, anche se tecnicamente questo è stato rilasciato dopo, perché è stato rilasciato il 26 ottobre 2024. E nonostante abbia detto in altri video riguardanti le FAQ per quanto riguarda i 40.000 che non mi piace questo anticipare i cambiamenti per quanto riguarda quello che è un Batatom o il Codex, in questo caso è un po' diverso perché per quanto riguarda le FAQ per i Batatom sono dei piccoli rifrasamenti, dei piccoli aggiustamenti che mantengono la regola così com'è, mentre per quanto riguarda i punteggi non sono presenti all'interno del Batatom, quindi li potete trovare solo all'interno di questo documento qui, quindi questo andrete a considerare, quindi non è un problema di per sé. Quindi ora non rimane altro che andare effettivamente a vedere quelli che sono i contenuti e gli aggiornamenti proprio di queste FAQ. Quindi possiamo vedere che per quanto riguarda i punteggi per le somme a cassetta nostra possiamo vedere molte unità di unità in punteggi, ma la maggior parte rimane comunque costante. Quello che è importante è che molte permettono con il diminuire dei punteggi di garantire che si hanno più punti magari per essere una nuova unità o per superare altre opzioni, quindi secondo me è molto intrigante. Quindi abbiamo per esempio che Celestan Pime vede 40 punti di diminuzione, che non è affatto male, il Drake Swarm Templar sono 20 punti, il Guardo SteelSood 30 punti, quindi non pochi raffine se si cominciano a inserire, il Knight Raconis sono 30 punti in meno, quindi non poco effettivamente, il Knight Quest 10 punti, solo Crondis praticamente si può vedere che è aumentato di 20 punti, ma non è un problema perché dal resto abbiamo tante unità che sono diminuite, quindi essendo uno dei pezzi principali si può anche sopra sedare in caso che aumenti un attimo di punteggi. Abbiamo il Lord Aquilor che diminuisce di 20 punti, per esempio, poi abbiamo per quanto riguarda il Lord Chestnut su Dragon Star Drake, quindi che in questo caso sono 10 punti in meno, abbiamo il Lord Terminus che vede un cambio per quanto riguarda la composizione, che può permettere di armata, però dovete tenere conto che le Ruination Chamber sono proprio venute fuori con questo Vatotum, quindi ci sta anche che sia stato rimodulato in questo senso. Vediamo che il Lord Veritant e il Lord Vigilant su Grif Stalka ha anche questi 10 punti in meno, poi possiamo andare ancora che le Everwind, le Anilatos, le Anilatos con i Meteoric Grand Hammers, tutti 10 punti in meno, quindi anche qui niente male. E poi possiamo ancora continuare con il fatto che, ad esempio, le Storm Drake Guards sono 10 punti in meno, quindi se pensate, come avevo detto con Crondis, sì, hanno metto in punteggi, ma le Storm Drake Guards sono calate, quindi se si possa fare una lista basata su quelle, diventa molto interessante, perché alla fin fine i punteggi si pareggiano, quindi non è cambiato molto, ci sta, secondo me. Abbiamo anche le Vanguard Paladoss con gli Storm Drake Javelis, 10 punti in meno, i Vanguard Raptors con gli Hurricane Crossbow, 30 punti in meno, questi cominciano a diventare molto interessanti, perché comincia ad essere un punteggio abbastanza basso, quindi molto intrigante. Abbiamo anche le Vanguard Raptor con i Longstrike Crossbow, che in questo caso sono metati 10 punti, ma non è un grosso problema. E poi abbiamo i Vindicators, che vi ricordo, sono una truppa base, che sono 10 punti in meno, quindi questo diventa un punto importante, perché se ne posso veramente mettere di più alla fin fine, quindi non da poco, a mio avviso. Quindi possiamo continuare a scrollare, per andare a vedoare eventualmente se c'è qualche piccolo rifuso, qualche piccola cosa che è stata modificata, ma in generale non c'è tanto. L'unica cosa che effettivamente è stata modificata, è stato per quanto riguarda gli Skaven, che hanno visto un aggiornamento, perché effettivamente era stato sbagliato qualche base, era effettivamente già così, semplicemente andava corretto nel documento. Tenete conto che gli Skaven hanno già ricevuto il button, quindi tutto il resto è già sistemato. Questa è semplicemente una piccola correzione, poi è quella che possiamo chiamare una data codice, quindi non è alcun problema. Quindi alla fin fine posso vedere che non c'è molto altro, in questo caso da guardare, per quanto riguarda i cambiamenti, rimane tutto uguale, quindi è semplicemente un piccolo aggiustamento dovuto a un piccolo errore, tenete conto. E poi non troviamo altri cambiamenti che non siano quelli dell'Amiro Renone, che andiamo a vedere ora, quindi potete vedere che alla fin fine sono rimasti stessi degli ultimi cambiamenti, quindi non è cambiato nient'altro. e quello che è stato cambiato per quanto riguarda invece l'Amiro Renone, che ora andiamo a vedere, è semplicemente per quanto riguarda per gli Skaven con il Kritox, Clopax e il Vote Clothes Engine Coven, a cui sono stati praticamente sistemati quelli che era la parte per quanto riguarda le fazioni in cui possono essere inclusi. Mi piace che siano inclusi, essendo tutti comunque del caos, le Beast of Chaos, perché tecnicamente presto dovrebbero essere dismesse. quindi sono un po' curioso di vedere effettivamente cosa laggiù farà, perché sono sempre più convinto che sia qualcosa per introdurre comunque una nuova armata che vada a sostituire le Beast of Chaos, quindi la stessa identica come concetto, ma con un nome nuovo che sia del marker, quindi con il marker registrato in modo che possa avere i diritti, e con nuovi modelli per sostituire quelli vecchi. Quindi secondo me è più un rifacimento che veramente una cassazione, ma vedremo, comunque sono curioso di vedere come sarà. Comunque possiamo vedere che al fine sono sempre tutte armate del caos, tutte armate del caos sono quelle in cui possono essere da negli scala stessi inseriti questi reggimenti renom specifici che hanno questo cambiamento. Per quanto riguarda le Warhammer Legends non ho notato nessun cambiamento in alcun modo, quindi rimangono sempre quelle, e ora non rimane altro che effettivamente andare a vedere cosa, quelle che sono le regole, le FAQ effettivamente cambiate. Quindi abbiamo la parte per quanto riguarda le regole base, ecco che cominciamo a vederle, quindi abbiamo la prima che è per quanto riguarda l'ordine dei modificatori si aggiunge la seguente parte, l'effetto di alcune abilità come Essence of Depravity permettono di rimpiazzare un tiro con un valore fisso. Questo va fatto e quindi va rimpiazzato prima di andare a tirare il dado per questo. Questo è essenziale e va a cambiare, o meglio, va a far capire un concetto essenziale, ovvero si sacrifica il dado prima di avere visto il risultato dello stesso. Quindi in certo senso è più eco perché alla fine invece di tirare il dado e vedere cosa viene fuori e di conseguenza si cambia il risultato, si decide che si vuole avere questo risultato quindi si sacrifica a prescindere da quello che sarebbe stato il dado relativo. Quindi secondo me non è affatto male questo ed è una cosa che magari cambia poco ma è molto importante come sistemazione. Abbiamo poi per quanto riguarda l'erata per attaccare prima e attaccare ultimi. Nella prima parte della frase si va a rimpiazzare all'inizio della fase con dopo che una qualsiasi non combattimento come abilità nella fase di combattimento è stata utilizzata quindi semplicemente cambia il timing in questo caso e poi si va a guardare per quanto riguarda il ritornare e aggiungere modelli per cui in realtà si va a rimpiazzare ma si va più che altro a miglioprare quella che è la frase iniziale che era in ciascun caso si schierano i modelli uno alla volta in coerenza ecco che questo va fatto con modelli in quell'unità che non erano fatti tornare o aggiunti questo turno quindi dovete fare attenzione a questo dettaglio e questo rimane lo stesso semplicemente con l'aggiunta quindi in ciascun caso quando si schierano questi modelli uno alla volta entro la coerenza del range di questi modelli di quell'unità che non è stata fatta tornare o aggiunti questo turno quindi rimane praticamente lo stesso ma se un'unità ha sette o più modelli inclusi quelli che vengono schierati ecco che devono essere fatti tornare in modo di mantenere il range di coerenza da almeno due altri modelli in quell'unità che non hanno stati fatti tornare o aggiunti questo turno questo è molto importante perché vi fa capire molto come va gestita la cosa alla fine non è problematico perché è come dovrebbe essere quando alla fine si muove o si andava a schierare in unità quindi non è un problema ma messo in questo modo qui vuol dire che avete una cosa in più da considerare quando li rimettete in campo quindi è molto anche se poco invasivo comunque è una cosa molto importante come cambiamento come aggiunta quindi tenetene conto perché è una regola che va usata molto spesso alla fine ed è molto importante poi andiamo a vedere per quanto riguarda l'aggiornamento delle FAQ ecco per quanto riguarda il boss score come si dovrebbe risolvere un'abilità che si finisce a controllare la statistica di controllo nemica per esempio per il short cage fragment di Ushan se il bersaglio non ha una caratteristica di controllo per esempio una manifestazione quindi un end space ecco che il bersaglio è trattato come avere una caratteristica di controllo pari a zero da adesso non va a sorprendere perché tecnicamente è già qualcosa che non ha una caratteristica di controllo quindi non avendola non si può far scendere qualcosa sotto zero quindi rimane a zero quindi non cambia tanto però evita qualsiasi fraintendimento o qualsiasi possibilità quindi secondo me ci sta come chiarifica poi abbiamo per quanto riguarda la parte per quanto riguarda l'inizio del battle round quindi quando si va a determinare il giocatore attivo come si determina quando il giocatore ha finito di scherare la propria armata e qui viene risposto che un giocatore ha finito di scherare la propria armata quando tutte le unità della propria armata sono schierate ok questo significa che nella parte di non deploy della parte di deployment phase quindi per esempio per la maschera con l'end stance abiti avvengono dopo che la propria armata ha finito di essere schierata di essere sistemata quindi ok semplicemente qui tenta di evitare questo ritenimento spiegando un po' meglio quando si vanno applicare determinate regole secondo me ci sta anche tutta poi possiamo continuare e qui possiamo trovare la parte per quanto riguarda il rimpiazzo delle unite quindi se una unità distrutta aveva un potenziamento un enhancement e un'abilità mi permette di schierare un rimpiazzo a quell'unità questo rimpiazzo avrà questo enhancement e qui dice di no ed è anche ovvio che sia così perché è un rimpiazzo quindi a prescindere è un qualcosa che non è l'unità originale è un qualcosa che va a sostituire quindi non è più quella originale che si è effettivamente vaporizzata quindi dal resto non è neanche un problema in questo caso questo secondo me è più un modo per evitare qualsiasi frantellimento qualsiasi possibilità e ci sta tutta però comunque non doveva essere un problema in ogni caso questa è essenziale per evitare ripeto qualsiasi problematica che possa insorgere e secondo me ci sta tutta ed è perfettamente lecita essendo completamente una nuova unità alla fin fine e poi abbiamo la parte per quanto riguarda le regole avanzate per quanto riguarda le regole avanzate alla fine non ci sono stati chissà che modifiche per quanto riguarda le facche le regole di per sé è stata portata una sola nuova regola che per quanto riguarda la composizione della mata del reggimento Renon quindi se un reggimento Renon include un mago può quel wizard castare incantesimi da una sfera delle universal manifestation quindi delle manifestazioni universali che è stata presa per l'armata e qui dice di sì questo ci sta come chiarimento perché voglio ricordare che non può castare quelle specifiche per l'armata perché deve possedere la keyword relativa quindi se non ce l'ha non può usarle ma qui si parla di quelli universali praticamente è possibile questo però implica una cosa che si può scegliere qualora pensate ad esempio a un'armata il cui unico mago tecnicamente è quello del reggimento of Renon ecco che si può comunque scegliere una manifestazione una parte delle manifestazioni che si scelte e farglielo castare quindi non è un problema in questo caso questo secondo me è molto interessante perché evita frantienimenti in questo caso dovrebbe essere tranquillamente complessibile però effettivamente tu dici sì ma lo preso per l'armata quindi è un qualcosa che ci sta semplicemente va a chiarire un eventuale punto di dubbio che ci poteva essere e è comunque universale quindi non è un problema che quel mago lo utilizzi perché comunque potrebbe averne accesso ovviamente deve essere una di quelle universali non abbiamo alcun cambiamento per quanto riguarda il glossario né per i match play faceblood né per quanto riguarda spearhead fire and jade ma abbiamo un piccolo cambiamento per quanto riguarda i general handbook 2024-2025 per quanto riguarda i battle point star strike che è stato cambiato in modo molto importante quindi nel twist si va a rimpiazzare ma vedremo che non è una reale rimpiazza è un'aggiunta quindi prima era che se un obiettivo fosse stato schierato parzialmente o totalmente su un elemento scenico non lo si rifaceva ma invece si infiggia un di sei ferite mortali a quelle che erano le unità parzialmente o totalmente su quell'elemento scenico ora invece è che se l'obiettivo verrebbe schierato parzialmente o totalmente su un terreno scenico di fazione attenti di fazione quell'elemento scenico e qualunque unità su di esso sono distrutte quindi si piazza l'obiettivo normalmente questo è molto importante perché vuol dire perdere l'elemento scenico e le unità relative che sono su di esso a garrison o questo esatto sistema quindi è molto importante se l'obiettivo venisse schierato parzialmente o totalmente su un qualsiasi altro elemento scenico quindi non di fazione ecco che non lo si fa invece si infiggia di sei ferite mortali a qualunque unità totalmente o parzialmente su quell'elemento scenico come era praticamente l'originale questo cambia quello che è la gestione per quanto riguarda il battle plan star strike perché o si pone l'elemento scenico di fazione in modo che non sia nella portata di arrivo degli obiettivi eventualmente oppure si deve giocare sapendolo e quindi fare in modo che le unità non siano nei pressi o sopra di questo elemento scenico quando l'obiettivo arriva per evitare che ci sia la scomparsa e la perdita di entrambe le cose quindi l'elemento scenico proprio e quello che è l'unità eventualmente quindi una cosa che cambia un po' o meglio molto quello che è il modo di approcciarsi a questo battle plan perché cambia proprio il modo in cui si va a gestire quindi è qualcosa che va tenuto assolutamente in considerazione perché può essere molto influenzante il modo in cui si va poi a gestire la partita quindi a vedere per quanto riguarda i pacchi di fazione quindi questo è semplicemente dovete andare a vedere in base a quelle che sono le vostre necessità perché cambiano ogni volta in base a alcuni piccoli dettagli magari per esempio Legend of Slash continuano a cambiare sempre alcune piccole cosette anche per quanto riguarda Illuminate piccole cose quindi va tutto visto in base a le vostre necessità cioè se vi interessa la fazione vi conviene andare a vedere anche Magotino Nuggle piccole cose che sono state cambiate e dovete valutare per esempio anche qui piccole cose ma per esempio per il Seraphone vediamo che di nuovo è stato modificato quello che per quanto riguarda l'Orcloak e lo Slumstar Master che hanno già stato aggiornati precedentemente quindi qualcosa di leggero che ogni volta magari viene riaggiustato sempre che GW non riesca a trovare la quadra per questa regola ok ma piccole giustamente alla fin fine che dovete andare a vedere se effettivamente vi serve e utilizzate quella regola esempio per quanto riguarda il Super Black Gavot abbiamo per la Okavai Mother of the Nightmare che va a cambiare per cui si dichiara nella parte per quanto riguarda l'Empire in Talons va rimbrizzato se è caricato in questa fase o con caricato questo turno quindi piccole cose anche per quanto riguarda Vampire Lord si muove la Core come Keyword dalla Sanguina Blue come abilità per quanto riguarda anche qui Bella Dama Volga First of the Blood un piccolo cambiamento come funziona quindi delle cose che dovete andare a vedere se effettivamente vi può interessare perché è qualcosa che vi riguarda per la vostra armata piccole cose ma essenziali per capire effettivamente come andare a gestire tutto e poi abbiamo le FAQ per quanto riguarda i pacchi di fazione anche qui se giocate praticamente uno dei pacchi di fazione andate a vedere se qualcosa vi interessa anche perché effettivamente quando abbiamo una sua nuova relativa riguarda il Dottor Sukane per cui se le Sisters of Slaughter con i Sacchi Falnais come unità usano la Dance of Death come abilità possono muoversi fuori dal combattimento e qui dice di sì ripeto qui dipende tutto dalla armata che utilizzate se vi interessa perché è una di quelle utilizzate quindi da andare a consultare e poi abbiamo una cosa importante che per quanto riguarda quelli che sono i Battletom quindi i cambiamenti e altro voglio ricordare che sono stati rilasciati praticamente solo due Battletom per ora o meglio uno già rilasciato che per quanto riguarda gli Skaven e uno che praticamente è lasciato poco dopo l'uscita di queste ma comunque queste sono ancora effettive che sono gli Stormcast e Tannas quindi sono piccoli chiarimenti ma che sono importanti ad andare a capire qui abbiamo per quanto riguarda gli Skaven con il Plug Pack che va a cambiare semplicemente il Chanting Roll of 1 per il Plug Red come abilità con un tiro non modificato di Chanting pari a 1 ripeto un piccolo cambiamento è semplicemente un aggiustamento un rewarding alla fine fine abbiamo per quanto riguarda le armi sono non Tackle Mutated Managerie che dice che semplicemente si aggiunge all'effetto seguente di Monsters Entourage che il companion come abilità arma non ha effetto sulle unità di Mutated Managerie e per quanto riguarda in Rampage and Demise and Spiteful Swans si rimpiazza quando questa unità è distrutta quando questa unità verrebbe distrutta quindi piccole correzioni che sono abbastanza importanti ma per quanto riguarda le FAQ anche qui vanno a specificare e a far chiarire alcuni piccoli dubbi che possono sorgere quindi se prendo una unità amica di Stone Fiends come bersaglio di un Fist Crust come preghiera con un canto di 8 più con un tiro di 8 più come si comporterebbe quel crit mortal come abilità dell'arma va a interagire con quella che è l'abilità delle Shock Gauntlets e qui viene esposto che il crit mortal come abilità dell'arma andrebbe a effigire ferite mortali all'unità bersaglio equivalente alla cartesca di danno e l'attacco della sequenza terminerebbe quindi i Shock Gauntlets non avrebbero ulteriore effetto semplicemente va a specificare cosa succede non è un problema se un'unità è affetta dal Gates of the Gnome come abilità e deve effettuare attacchi contro Witzscore possono i modelli in quell'unità che non sono entro il range di combattimento di Witzscore usarla dopo che hanno fatto un piling nell'attaccare e qua dice di no quindi anche qui un chiarimento che è abbastanza intrigante poi se un Warp Grinder sceglie un altro Warp Grinder come unità per essere schierata nei tunnel sottostanti possono utilizzare i Tunnel Skulkas come abilità in modo che entrambe queste unità possono usare le abilità Warp Ambash e tentare di essere schierati sul campo di battaglia e qui dice di sì quindi ripeto piccoli chiarimenti che possono essere facilitare un po' quelli che sono eventualmente piccoli in compressione alto e poi abbiamo per quanto riguarda gli Stormcast come abbiamo visto anche qui piccoli specifiche piccole sistemazioni abbiamo per quanto riguarda i Pretori che vanno a cambiare l'effetto dei Subbounding ma alla fine è lo stesso effetto semplicemente questa unità può usare questa abilità anche mentre è in riserva questo è molto importante perché vuol dire che anche se non è schierato sul campo di battaglia e cambia un po' il modo in cui si può concepire l'utilizzo quindi è abbastanza intrigante non game cinci ma molto importante abbiamo quello che è importante invece per esempio è per gli Stormstrike Palados che vedono il Carambiale la cattistica per colpire dei Griff Charger Stallons da 5 più a 4 più quindi un cambio molto importante poi abbiamo per quanto riguarda i Vargard Raptors con Hurricane Cosbows che cambiano il timing dei coordinate strike alla propria fase di tiro questo era capibile anche prima semplicemente è specificato un po' meglio quindi non è un problema comunque era così anche precedentemente semplicemente è più chiaro proviamo per quanto riguarda il Lord Vigilant on more grief se l'effetto del West Light Grip va a rimpiazzare che da il bersaglio non può essere scelto come bersaglio dei comandi a il bersaglio non può usare comandi questo è diverso perché si va da andare a essere bersaglio di qualcosa a poter usare qualcosa quindi è un qualcosa che cambia un po' come va utilizzato questo modello ma rimane comunque fantastico poi abbiamo quello che forse ha subito più cambiamenti o più aggiustamenti che è il Dice Arcanum per cui nell'Arcanum Enhancement come abilità si cambia il primo bullet point in modo che abbia un word di 5 più e volare quindi viene aggiunto il fly come keyword che è molto importante perché è un modo per muoversi che è molto interessante e molto importante per cui ci sta come cambiamento poi abbiamo che va aggiunto un seguente bullet point per cui se questa è scelta come presaglio di un movimento di pile-in si muove questa manifestazione invece che è anche ovvio perché l'affettivamente un'unità è posta su di essa per cui si muove assieme ok poi abbiamo per quanto riguarda il cambio della parte finale di questa regola di questa unità per cui se l'unità sulla piattaforma viene rimossa dal campo di battaglia si va immediatamente a rimuovere questa manifestazione dal campo di battaglia prima invece era per l'unità distrutta questo allarghe invece molto di più come si possa andare ad utilizzare questa rimozione perché effettivamente se per qualsiasi motivo l'unità posta su questa manifestazione viene rimossa perché magari messa in risalva o questa è stata un motivo ecco che questo viene distrutto quindi non è soltanto se l'unità di per sé viene distrutta ma anche se per qualche motivo sparisce un po' ma non è distrutta di per sé quindi cambia un po' il modo in cui va a funzionare rimane più o meno uguale ma su piccoli dettagli ma che cambiano leggermente come va concepito abbiamo poi un cambiamento per quanto riguarda l'ambito apoteosis cosa che io adoro l'ambito apoteosis e che forse farò qualcosa in futuro a riguardo quindi semplicemente aggiustamento non è niente perché soprattutto se andate a usare l'ambito apoteosis diventa importante altrimenti è qualcosa su cui potete sopprosse dare ma vi consiglio eventualmente di testarlo perché è simpatica abbiamo poi per il path to glory io non lo utilizzo ma eventualmente è un piccolo cambiamento che non è un problema abbiamo per quanto riguarda le Amazon Renon che ha l'Erus of the First Portal per cui nella neozione per quanto riguarda il rooster si va a cambiare il primo bullet point e si impiazza con deve essere incluso e deve essere proprio generale con questa unità guadagna la keyword worldmaster e deve essere incluso e deve essere proprio generale quindi semplicemente aggiunge la keyword worldmaster semplicemente quello quindi non è niente di che semplicemente dargli una keyword extra che è abbastanza importante comunque e poi un cambiamento per quanto riguarda le rules reference che cambia la prima frase per quanto riguarda l'effetto del summon days alcanum con va a bestiare unità amiche non volanti di Stomax e Tanas Infantry Hero totalmente entro 12 pollici quindi semplicemente anche qui una differenza possiamo vedere ok c'è qualche cambiamento per quanto riguarda i deaths alcanum quello che è più importante per quanto riguarda i tiro per colpire per le vanga raptors ma non ci sono reali cambiamenti quindi semplicemente dei piccoli aggiustamenti che ci possono stare quindi non è un problema e se ne prende auto semplicemente quindi che dire di queste faq penso che sono molto interessanti anche perché alla fin fine possiamo vedere che queste faq sono semplicemente dei chiarimenti dei piccoli aggiustamenti per sistemare qualche eventuale incompressione o altre fare in modo che si capisca effettivamente qual è il testo quindi non c'è problema anche perché se andiamo a prendere questo documento e togliamo quella che la parte dei punteggi per la parte per quanto riguarda le Amel Renon e per le Legends qui non abbiamo tante pagine di faq quindi ci può anche stare sono poche e vanno a specificare proprio alcuni punti che devono essere semplicemente leggermente aggiustati quindi non è un problema per quanto riguarda e anche per quanto riguarda la parte di frazione una volta che esce il Battleton praticamente viene rimossa e tra l'altro una cosa che mi piace è che alla fin fine non ci sono le faq per ogni armata o meglio distinte da controllare ma c'è un documento unico da andare a vedere per cui si trova tutto e è evidenziato chiaramente cosa è stato modificato quindi non c'è da andare a capire ma c'è da questa o da quest'altra parte ma è tutto bene in vista e quindi non ci sono grossi problemi non è una cosa che mi piace abbastanza forse è perché non ci sono così tante pagine aggiustate cambiate o così via come per 40.000 ma effettivamente è molto più facile da consultare è molto più semplice anche la parte di Battleton ma alla fin fine è intrigante perché comunque piccoli aggiustamenti portati e andate a vedere semplicemente l'armata che vi interessa una cosa che preferisco di gran lunga quindi sono così a vedere anche come si volverà in futuro ad ogni modo da Danimod è tutto vi invito a iscrivervi al canale a suonare la campanella per ricevere notifiche per quanto riguarda nuovi video a commentare qui sotto per quanto riguarda questo video o se volete suggerirmi per quanto riguarda nuovi video a cui potreste essere interessati spero di rivedervi presto alla prossima per quanto riguarda